E' importante esserci perché l'Aquila è la casa del Consiglio regionale e l'emiciclo è rinato insieme a questa città. Ci siamo per i familiari con lo stesso dolore e la stessa vicinanza. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, alla vigilia del 14esimo anniversario del terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009. Oggi e domani l'Abruzzo e l'Italia si fermano a celebrare la memoria delle 309 vittime. Il Consiglio regionale rinnova la sua presenza con il Presidente Sospiri, il Vice Sant'Angelo e i consiglieri Verrecchia, D'Addazio e Pietrucci. Un primo momento di ricordo con il Presidente del Senato, Ignazzo Larussa, si è tenuto al parco della memoria. E' stata scoperta una stele progettata dall'Accademia delle Belle Arti sulla quale è stato inciso il fiore dello zafferano, il simbolo individuato anche quest'anno dal Comune dell'Aquila. Poi la messa alla Chiesa delle Anime Sante con l'eccezionale partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. A fianco a lei il Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il Presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e il Presidente della provincia, Angelo Caruso. Il cerimoniale si chiuderà questa sera con la tradizionale fiaccolata che partirà alle 21.30 da Via 20 Settembre.